Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube, nuova reaction dedicata all'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead. Io questo episodio l'ho visto una settimana fa, ma appunto non me lo sono più riguardato perché volevo guardarlo diciamo qui a mente fresca, a mente riposata diciamo appunto per la reaction e per il video d'approfondimento che farò sempre oggi lunedì e che voi però vedete online mercoledì mentre voi starete guardando questa reaction martedì perché io adesso grazie a Disney Plus diciamo perché vi ricordo che adesso The Walking Dead lo troverete soltanto su Disney Plus, Sky non lo trasmette più e su Disney Plus nella stazione Star trovate anche appunto tutte le dieci stagioni precedenti. l'episodio è online alle 9 quindi mi posso mettere lunedì pomeriggio tranquillamente a fare la reaction e montarla e farlo trovare il martedì invece di dover aspettare la messina in onda italiana perché sapete che io il video non lo metto assolutamente col culo che ho me li censurano tutti. Prima dovevo aspettare la messina in onda italiana quindi fare tutto martedì e quindi vedevate tutto già verso la fine della settimana. invece adesso posso fare un pochettino più sbrigativa quindi che dirvi ragazzi questo è praticamente il continuo del primo episodio ovvero Acheron Acheronte che di si voglia parte 2. Vi dirò la verità ragazzi non è che ho tutta questa voglia veramente non è che mi abbia tanto convinto l'inizio di questa unicesima stagione però mai giudicare dalle apparecce io voglio avere speranza anche se io ve lo dico io ho le aspettative sotto il livello del mare eh. Non farò la stessa boiata che ho fatto con Game of Thrones quindi adesso guardiamo questo episodio e poi ne parliamo. Sta riprendendo esattamente da dove si è interrotto alla prima parte questo è questo proprio fa capire che è effettivamente l'unico episodio diviso in due. Ah no neanche si è interrotto cioè proprio dalla fine del però dal punto di vista dalla fine del primo episodio ma dal punto di vista di Maggie oh cazzo però Maggie bella cioè io ti posso madonna devo regolare ancora il volume di questa benedetta cassa abbiate pazienza cioè non puoi non potevi pretendere che ti aiutasse dopo che l'hai minacciato di uccidere no 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 sarebbe stato sì una bella prova per nica di dimostrarle che è cambiato ma io l'avrei trovata anche abbastanza realistica non rompi il coglione una persona e poi ti aspetti che ti salvi eh no mi dispiace ma no gli hanno rotto i coglioni l'hanno bullizzato gli hanno rotto le palle eh no eh questa atmosfera ricorda molto vabbè i film di Romero ma anche molto The Last of Us il primo capitolo la scena del della metropolitana che è corta ma comunque di impatto andate a vedermi i miei gameplay sul canale e vabbè Gabriella dai che hai rotto la fava eh siete circondati poverini dispiace dov'è Maggie? dov'è Maggie? era proprio dietro di me ah qui un po' bugiardello eh però ci sta cioè ma lui gliel'ha detto in tutti i modi torniamo indietro ci stiamo ficcando in un fottuto ginepraio ecco no 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 ma c'ha ragione cioè ma adesso quindi questi qua lasciano indietro i compagni? minchia ma io lo ribadisco ma io lo ribadisco ma ridateci Rick Grimes ma stiamo scherzando a quel punto proseguiamo no ma dai ma ma l'altra volta una volta cattafottuto il cervello no ma vabbè no no non mi piace questa nuova mentalità dei nostri eccolo qua il rimba che è scappato dietro al cane non tornare più eh grazie no ve l'ho detto io dai il primo episodio mi ha fatto madonna se avete visto non lo tollero più cosa c'è qua cosa sono le grotte di moria qua il cane che per me io ho una teoria comunque su cane ogni volta che c'è il pericolo sta povera bestia scappa quindi i casi sono due o ha capito che questi lo manderanno all'inferno e quindi ha detto io mi allontano perché mi avete rotto il cazzo ogni volta combinate sempre i casini oppure veramente cerca di di aiutare come faceva Orlando in quella puntata di Montalbano com'è che si chiamava il senso del tatto comunque cosa comunque questi disegni ci sono veramente inquietanti cioè ma non non si capisce bene se sono opera dei mietitori o quant'altro di qualcuno forse magari boh vere bugie boh gente con le corone la famiglia boh sono disegni abbastanza inquietanti e infatti anche il nostro Deren un po' mmmm ah siamo tornati al Commonwealth meno male le uniche parti interessanti sì la foto della bacca era una foto del portafogli di tuo fratello quindi l'ha tenuta con sé durante l'apocalisse forse per più di dieci anni e chi lo farebbe sembra fantastico cosa e anche quello che hai detto qual è il piano hanno strutture leggi voglio parlare con la persona che è al comando tutto qui il piano è parlare sì fredda come ghiaccio otterrò dei risultati bravo mi piace questa è Yumi con modalità avvocato mi piace un botto Isichiel è sparito come Isichiel è sparito prima che me lo chiediate ho cercato ovunque nessuno dice niente qualcuno l'ha preso sanno di noi e lui è stata la prima tessera del domino a cadere prima che me lo chiediate non so come faccio a saperlo ma so che sta impazzendo qui Yugen è tornato un po' in modalità mi cago in mano sì fredda ghiaccio ghiaccio vai Yumiko che gli avete fatto pretendo di sapere dove è stato portato signora stia calma non so dove sia il vostro amico ma allora non abbiamo motivo di continuare a parlare voglio farlo con chi mi darà delle vere risposte tu a chi fai rapporto volete parlare con il mio supervisore sì vogliamo parlare con il responsabile brava brava Yumiko decisa pugno di ferro sì perché Yugen è tornato in modalità cagati in mano eh cosa hai trovato ha trovato una busta con dentro qualcosa madonna po' la palla però eh questo che cerca e trova si saranno scadute figlio mio quelle barrette saranno scadute ma perché vogliono far morire di cagarella quella povera gente d'Alexandria mangiali tu e porta la roba scaduta ma cazzo ma ma veramente ma vogliono farlo non li vogliono salvare d'Alexandria vogliono farli morire però però che uno zombie dentro il suo cappello che è che cagar cazzo t'ha dormì e voi che voi tu testa di minchia comunque qui doveva oh demons c'è una mappa con delle indicazioni c'è boh abbastanza inquietanti queste un po' una palla ma inquietanti ehi cane lo vedete che scappa sempre sta bene corri cane salvati salvati da sto coglione salvati cazzo sta succedendo lei faceva un lavoro come questo anche prima se dovessi fare un'ipotesi direi psicologa forense forse lei era un accademico ricercatore dovete valutare le minacce alla vostra comunità ci chiedete chi eravamo prima perché chi vi dà gli ordini ha deciso che è un buon punto di partenza per capire chi siamo oh interessante questa cosa così sondate gli angoli bui delle nostre menti testate i nostri limiti con domande sulle nostre abitudini in bagno oddio porca troia hai capito yumiko volete capire di cosa siamo capaci e se vi offriremo un contributo se saremo un peso per le vostre risorse ma la verità è che dovete giustificare le vostre esistenze caspita perché non è più importante questo adesso che ci sia qualcuno che getti la spazzatura e che eviti che ci siano malattie piuttosto che scrivere un'infinita lista di domande visto che ci si può soltanto affidare all'istinto per capire se chi ti sta accanto ti ammazzerà mentre dormi caspita yumiko gliela sta cantando eh sono convinta che mio fratello un chirurgo toracico viva nel Commonwealth e mi stia cercando accelerate la valutazione del mio gruppo rispetto alle vostre politiche di asilo e immigrazione mi ripete dove ha studiato Oxford per la laurea Harvard per la scuola di legge vi elenco di nuovo le mie credenziali professionali no vabbè ma bellissimo questa cosa ma vai yumiko qui mi sta veramente piacendo porca troia hai capito l'avvocato che poi questo è l'arco narrativo di Michonne anche Michonne faceva l'avvocato eh se quel bel tipo con la tuta arancione è appena entrato con un caffè le cose andranno bene per gli unicono magari sarò uscita per quando tornerò si per quanto ti ami in questi episodi c'ha un post-it come copione sta praticamente prendendo un milione a episodio per non dire niente oh hanno aperto una porta è sotto di noi chi è? è un SOS pronto? questa è Maggie è l'unica perché quell'altro è oh aprite sta cazzo di porminchia si sta un po' cagando in mano adesso Negan eh e infatti è lei ecco su un cazzi ah che brava però molto furba è passata sotto sotto le i vagoni bravissima aia 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 cartella e lo sapevo vabbè ci sta eh ci sta sono scivolata lui mi ha vista e mi ha lasciata lì a morire tesoro che cosa pretendevi però e allora giusto lo ammetti così ecco hai cerchiato di ucciderla no erano i guai non l'ho aiutata c'è un'enorme differenza c'ha ragione eh beh in questo caso chi aiuterà a te chi ti guarderà le scuole è arrivato il The Rock dei poveri e tutti di noi lo farebbero io lo faccio io aveva appena detto che mi avrebbe ucciso e anche il prima possibile eppure per qualche motivo sono io lo stronzo perché non ho rischiato le palle per lei c'ha ragione cazzo ha ragione sono sempre stato una risorsa molto utile per ciascuno di voi ma stai zitto ha ucciso alfa è stato utile sì perché se non l'avessi fatto tutti voi avreste il cranio infilzato su una piccola bravo minchia standing ovation ho fatto quello che andava fatto faccio del mio meglio bravo lei lo... ma stai zitto tu un cenno e lo uccidiamo ma state zitti voi 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 dovete solo andare a fanculo comunque Maggie Maggie sta vacillando eh dopo quello che ha detto sta vacillando un po' nelle sue convinzioni eh eh mi sa di no ma non è vero ma non è vero sono un chilometro bravo no nessuno sta facendo niente per salvare sto ragazzo no questa scena l'ho già vista eh a riguardarla adesso non mi va non mi piace ve lo dico già subito no 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 non lo rifarò più non lo rifarò sarò migliore giuro no no Maggie Maggie per favore era meglio se non tornavi ma si sono a un chilometro lo sta punendo perché è scappato lo sta punendo perché è scappato perché è fuori di... perché ormai è destabilizzata basta eh è arrivato anche mister simpatia no 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 mi dispiace no no vaffanculo non posso vaffanculo Maggie vaffanculo non sei dio e non sei un giudice di sto gran funciazza bugiarda fatti è vero è vero è una bugiarda perché potevano... non vuole salvarlo non vuole salvarlo perché semplicemente ha deciso che lui merita di morire giudice giuria sto gran coglioni Maggie mi dispiace ma te ne puoi andare a fare in culo vattene astra vaffanculo si è pugnalato ha scelto... ha scelto da sé no 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 non mi piace questa cosa non mi piace ridateci Rick Grimes questa qui non è ancora capace di fare il leader questa è tornata per fare una strage signora Fletcher levati no 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 vaffanculo 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 mamma mia ricorda un po' la morte di... oddio come si chiamava Noah mamma mia povere... cioè... allora è uno sto... no 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 io mi devo alzare io mi devo alzare andate tutti affanculo ma basta ma ridateci Rick Grimes non rompete più i coglioni basta cristo santo ma chi è questa la signora Fletcher la dea della morte ma rimandate la casa cristo santo due episodi due volte che mi alzo quest'ultima stagione comincia veramente da dio adesso mi tengo la rage per il video di approfondimento ma io vi dico subito che anche Maggie è da sistemare io spero vivamente che non faccia così per tutta la prima parte di stagione perché sennò era meglio che non tornava era meglio che la lasciavano a casa farsi i cazzi suoi e ci mettevano un altro piuttosto Aaron a fare il leader perché né Carol né Daryl possono farlo forse Gabriel se non fosse così anche lui verso il declino più totale con questa freddezza no non sei giudice e giuria e non puoi decidere della vita delle persone quelle persone ti hanno seguita come volontari e tu hai lasciato morire un ragazzo solo perché ha avuto paura solo perché sei fuori di testa per via di Negan quando Negan ha fatto quello che il tuo caro amico Daryl aveva paura di fare per me in questo momento in questo preciso istante a 31 minuti e 33 dalla fine di questo episodio Maggie Rhee può andarsene a fare in culo gettatemi tutto l'odio che volete nei commenti ma per ora lei insieme a Daryl se ne possono andare entrambi a fare in culo e a lasciare stare sia Carol che Negan andate a cagare ma qua Eugene è terrorizzato madonna ma guardatelo un infarto gli sta venendo a quest'uomo mi sto aspettando la mia amica il mio amico e in quella stanza mi chiedevo se lei potesse scoprire o fornirmi una previsione su quando potrebbe finire non c'è nessuno dentro non c'è nessuno dentro come non c'è nessuno ho visto ho visto la mia amica entrare lì e non ho visto né lei né nessun altro uscire può controllare non c'è nessuno dentro ma ecco l'altra mia amica è come se fosse una specie di gioco perverso si deve allontanare è come se stessero testando i suoi nervi è un gioco psicologico perversissimo e questi sono ancora qui minchia come posso saltare le parti della metropolitana vi prego posso e no che non posso e no che non posso ma vaffanculo cogliona no non reggo neanche lei non reggo neanche lei non la reggevo nel primo in questo no non mi è piaciuto come si è comportata ha tutte le ragioni per avercela con Negan ma basta basta Negan è stato sincera è stato onesto le ha messi in guardia e lei caga il cazzo basta povero Negan ma lui gliel'ha detto in tutti i modi ci stiamo ficcando in un in un ginepraio ma andate affanculo i quattro cummenda di Milano tornatevi da Milano madonna eccolo qui i gay zombie madonna ma cosa ma che cosa ma Rick non l'avrebbe allora neanche Daryl l'avrebbe mai permesso Daryl l'avrebbe salvato perché se si può dare un pregio a quell'uomo è che lui salva sempre le persone quando ci riesce lui l'avrebbe salvato ma Rick questa cosa non l'avrebbe mai permessa chi cazzo sono questi che sono appena arrivati e si permettono di fare la giudice giuria bravo Alden non lo riescono a guardare vai Alden vai Alden non meritava di morire Alden anche a te ti faccio l'applauso in modo peggiore bravo Alden bravo bravo oddio adesso parte il monologo da psicotica decisamente ma va fa un culo va e allora lo so che ci sono modi peggiori ma allora ma che cazzo sei tu minchia me l'hanno fatta tornare fuori allora da una parte scusate metto un attimo in pausa sono contenta che il ruolo della matta lo stiano dando a lei e che lasciano un po' Carol in pace però non così non così non che a farle le spese devono essere gli altri anche con Carol ci sono state delle conseguenze ma Carol ha fatto pagare delle conseguenze per una giusta casa perché Alfa doveva morire Alfa le stava massacrando tutti questa sta portando la sua gente a morire per un capriccio alla fine certo c'è la scusa dobbiamo prendere il cibo questo e quant'altro ma porca di quella puttana non sei stata in grado di riconoscere una situazione potenzialmente pericolosa solamente perché sei fuori di testa perché Nigan è libero ma Nigan si è guadagnato quella libertà quindi devi stare zitta adesso partirà un monologo da psicotica che io sinceramente vorrei anche evitare di ascoltare ma purtroppo devo farlo per voi quindi vi prego mettetemi tanti like a questa reaction e sostenetemi perché io veramente se tutta la stagione se tutta la prima metà di stagione andrà avanti così a me viene un ictus prima mi viene un ictus ve lo dico eh io spiro qui durante la registrazione alla porta alla fine del corrido si ho capito le è successa sta bruttissima cosa e va bene però non è la prima e l'ultima a cui succedono cosa c'era? un'ombra chi era il babau? si contorceva si dimineva e che cazzo era il babau? credevo fosse un animale ma cazzo era? eh su streggi però l'introvviso è caduta dalle scale che cazzo? che cos'è la bambina di The Ring? è arrivata ai miei piedi è la bambina di The Ring era un vagante ah no forse era quella di The Grudge scusate era una donna si bilava attraverso il taglio aperto cauterizzato nella gola da cui tempo prima erano state strappate le corde vocale va bene ho capito è un cazzo di film dell'orrore però non è che questo ti giustifica tondo e pieno ma che cazzo era? qualunque cosa fosse lì dentro stava cercando di uscire sapete qual è la prima cosa che ho pensato? scappa! la primissima cosa che mi è passata per la mente dovrebbe essere scappo via e corro veloce se sono vive deve esserci del cibo non provo niente raccontandovi questa storia vada si vede riesci a capire si questa qua ha visto l'inferno ed è tornata ed è tornata mezza matta e questo è il succo della cosa e vedendolo ho perso qualcosa di me ma non credo che sia un male che sia così e tesoro però nessuno ti ha detto di andartene fuori dal cazzo eh la situazione là fuori è più chiara quello che abbiamo ad Alexander è tutta una giustificazione va quello che avevamo ma va 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 ma va 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 e la meridian è raro e ho capito ma se sacrifichi tutti per ma ho capito ma se sacrifichi tutti per tenere in piedi questa cosa qua quanti cazzo rimane poi è tornato a quello che c'è là fuori perché se non è così significa che siamo stati fortunati significa che nessuno ha trovato una soluzione ha 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 minchia che blastata non sei o non l'ha mai farà che blastata e nessuno lo farà mai bravo minchia che blastata pazzesca bravo Illigan minchia come ha capito tutto minchia di nuovo questo non lo sopporto ma basta... ma in 3 ore che ste significa... e quanto cazzo è lungo sto tubo Da qui a Firenze che ci sono appena stata Santo Dio ci abbiamo messo meno noi A tornare da Firenze a casa Il tempo che ci sta mettendo questo A percorrere sto tubo Oh finalmente un po' dai mangiatelo No gli zoppi hanno chiuso la carota Minchia il karma bello Stai pagando per tutta la tua stronzaggine Sì 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 Tanto non ti fanno morire Purtroppo neanche sta soddisfazione Devi fare lo spin off E io spero che ti sistemi Prima dello spin off Dov'è la bestiolina? Cane? Dov'è? Ah il vecetto Ero il soso di Jesse D. Morgan Vecchio Vai cane Occio 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 Oddio 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 Il cane No Dai però Odir's Shoeless Dixon Bello Tieni qui Sì ma io ho l'impressione che sto cane Stia cercando di scappare da questo qui No fermo Non sprecarlo per me Tieni Bumbo a mano E pistola Ti ho i miei figli che non sono morto da codardo No caro Guardate che questo qui vabbè ha agito da codardo ma neanche troppo torto eh Cioè dai Eh vabbè questi insistono Oh finalmente l'hanno aperta I quattro commentano in Milano L'Instagram Funciazza Ops è bloccata Eh sì Dispiace Sapete perché non provo nessun tipo di empatia Perché questo è stato andarsela a cercare Non hanno cercato soluzioni alternative Non hanno voluto ragionare su un altro Niente Si sono andate a cacciare in questo ginepario Per questo non provo nessun tipo di empatia Questa è se se l'ha andata a cercare Dai dai Entrate e massacratele tutti Però risparmiate Negan E anche Alden Che si è accompagnato bene in questa puntata Uuuu Questa scena è molto bella Ha dato la pistola a Negan Come per dire mi fido Per adesso D'altronde se vogliono sovrappare devono collaborare Uno Due E tre Minchia Do two headshot Double headshot Dai su Vedi Sono bravissimi Cosa ci voleva Vedi questa è la classica cosa Che hanno fatto morire quel ragazzo Perché dovevano mostrare il lato oscuro di Maggie Che poi è il lato psicotico Non è il lato oscuro Perché vi siete fermati Ma si ma che perché devono far fare a Daryl La parte dell'eroe Perché se no ha fatto un episodio senza fare un cazzo Una stagione senza fare un cazzo Oh Canta pazienza Kang Che ci vuole con te però Sì sì Vabbè Dai su Fai qualcosa Guadagnati sto milione episodio Norman Su Uno Due Tre Quattro Dob Forty action Dai Ale Minchia Fatality Ale 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 Bravo eh Per carità di Dio Una medaglia gliela do Bravo Dai Ha finito già le pallottole Ah vabbè Aveva pochissime Dai bravo Oh Guadagnati sti soldi Norman Su Che poi io adoro Norman Veramente E parlare cos'è del suo personaggio Mi fa male Su Dirciuless A commenda di Milano Dai 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 Ah la bomba a mano Giusto Questo è un po' un parallelismo Con la prima stagione eh La Carol che dà la bomba a mano a Rick Che risolve la situazione Questa cosa non mi dispiace Tre Due Uno Morti tutti Perfetto Bravo Bravo Bravi Bravi Ma dove sto cazzo l'hanno portato Eugene No ma quest'uomo è in botta totale Ma qualcuno lo aiuti Oh madonna Non sono strumenti di tortura Ah no la penna Ha tirato fuori la penna Ma perché questo tiene manete E la Pinze Cose inquietanti E una penna In questo astuccio Uh Mercer Ma sapete che questo personaggio Mi ispira un botto Ma poi sto attore Mamma mia Cioè è perfetto Avete fatto ai miei compagni di viaggio Avrei voluto parlarne Prima Avevo paura di quello che avrebbero pensato I miei amici Non sono mai stato una persona molto emotiva Ma più di diecimila ore Di Morte Dolore e paura Mi hanno fatto sciogliere un po' Poverino E poi una sera Una voce è risposto da quel vuoto E io ho pensato adesso si tromba Oh 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 Ci siamo messi a parlare E lei Non era infastidita Dai miei discorsi Oh E in effetti L'ugenda è un po' fastidio Quando parla Abbiamo parlato di musei dei treni E abbiamo voluto incontrarci Si sta sciogliendo un po' Che mercer Mi ha fatto i miei amici Ad andare allo scalo Ho detto che avremmo chiesto aiuto a chiunque Perché sapevo Che non ci sarebbero venuti Altrimenti Ma riuscivo a pensare soltanto a Stef E poi di che ha portato tutti via Perché doveva scopare Stefani ho detto che il mio insediamento è grande Perché avevo paura che potesse Non essere chi diceva di essere E che potesse essere una fan fatale Che tendeva a una trappola A un cuore solitario Madonna Le mie esperienze in ambito romantico Sono a dir poco scarne Ma non solo uno Che ha facilità nelle relazioni In particolare Quelle con il gentil sesso Beh magari se smittessi di parlare Come un verbale dei carabinieri Non sei neanche tanto male Eugene No No scusatemi Me l'avevo dimenticata questa cosa Oddio poveri Poveretto Povero Eugene Uno di noi No ma no Non posso fare l'hashtag Una gigia per Eugene Vi prego Hashtag Mi commenti Una gigia per Eugene Anche se ho Osservato L'atto Molte più volte Di quante vorrei ammettere E' vero Corrosite Abram Grazie di aver trattenuto le risate Caro Io ho paura Che se Stefani scoprirà Che non sono stato sincero Non vorrà più avere niente A che fare Non vorrà più darmela Oh madonna Eugene Ma quando Ti si può amare In questo momento Ma sento Dio Sono molto sollevato Di essermi tolto Bravo Sei più leggero Perché ogni altra cosa Che ho detto finora Era la verità Bravo Bravo Oh Che sguardo No mi è piaciuto Questo dialogo di Eugene Poi ne parleremo Eccoli Guarda com'è felice Guarda com'è felice Di rivedere Principessa Che bella Che bella scena Araki No bellissima Bellissima Questa scena Che bella Amore In infermeria Un medico Mi ha riempito La faccia Di vapore Mi ha dato Uno schifoso Sciroppo E ho dormito Oh Ti hanno drogato Con lo sciroppo No Hanno spento La lanterna E mi sono addormentato Il medico Mi sorvegliava Era stanchissimo Era stanchissimo Grazie a Dio Se qui anche tu Eravamo preoccupati Ma che bello Della sezione 1 14a Dei nuovi articoli Dell'unione perpetua In osservanza Delle tradizioni Stabilite Dall'articolo 1 Sezione 8 Della costituzione E dall'articolo 14 Dei diritti umani Avete completato Con successo La selezione Per il riconoscimento Dell'asilo E della cittadinanza In queste municipalità Unite Uh Tradotto Siete ammessi Quando passerete Da quelle porte Sarete scortati All'orientamento Da un poliziotto A piedi Benvenuti Nel Commonwealth Sono andato a West Point Stronzo Che è blastato Ezekiel Perché io Dove andare stupida Siamo dentro Chi di voi è Eugene? Eccolo Ciao Sono Stefani È Stefani Ficchia Eugina Guarda come per dire È Mose Scopa Bellissima Le parti del Commonwealth Sono quelle Che mi sono veramente piaciute Ecco Qui siamo Sono usciti Finalmente Da sta cazzo di metro Santa savacca Se ne può più Andate via Scappate Tornate a casa Uh Negan Guardate Guardate che uomo L'ha restituita la pistola Ma dai Ma è un bravo uomo Ma smettila Maggie Ma piantala Di rompere i coglioni È un bravo uomo Guarda come afflitto Se non era per lui Altro che Che Hiltop Distruggeva tutto Alfa Anche se lui non lo faceva Se dovevi aspettare Il tuo amichetto Il tuo cagnolino Qui Dobbiamo fare una deviazione Prima Minchia Un'altra Arborils Cosa c'è lì Un deposito di provviste Giorgi Ne ha preparati diversi Nel caso fossimo andati In cerca di sopravvissuti Un po' forzata Sta cosa Cideri comunque È provato dalla vita Lui non ne può più Sai dove si trova? Sì Andiamo Andiamo Forza Dai bello Eccoli qua La Suicide Squad Dessa gran funcina Sto qui ha perso un occhio Poveraccio Oh Mio Dio C'è un uomo Qualcuno Ha preso la testa in giù Sono Tante persone A testa in giù Oh madonna Oh Madonna santa Questo posto È peggiorato Dall'ultima volta Che sono Che troia Sono tante persone A testa in giù Andiamo indietro Possiamo Oh cazzo Oddio Hanno beccato nell'occhio Dai che hanno portato via La mano a colle Oh madonna Ma che cos'è Oh signore Mi sa che sono arrivati E infatti Eccoli qua I miei titori Eccoli qua Eccoli qui Andiamo 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 a combattere Senza munizione Di pazzi assassini Eccoli qua Bravi Bravi Come avrete visto Anche questo episodio Mi ha causato L'urto Perché veramente Io non riesco a capire Che cazzo è tornata A fare Maggie E lo dico E se lo dico io Che io Avete visto anche sulle live In che era l'Italia Quanto ero speranzosa Per questo ritorno Perché a questo Fottutissimo gruppo Serve un fottutissimo leader Ma non uno così No Anche Rick Ha avuto i suoi alti Che ha avuto i suoi alti e bassi Però lui non si è mai eretto A giudice e giuria Non sempre Solo proprio Quando era in botta Totale E questa cosa A me non piace Cioè La faccenda di Gage Non mi è piaciuta Neanche un po' Per quanto quel ragazzo Mi stia sui coglioni Mi è stato sui coglioni Perché uno di quelli Che ha picchiato Lidia Ma l'ha picchiata Perché era montato Da quelli Di altri due deficienti Che alla fine Sono morti Insieme a lui Si ritroveranno A fare i bulli All'inferno Probabilmente E non mi è piaciuto Proprio il comportamento Poi ho raccontato Quella storia Raccapricciante Poi per carità di Dio Va bene Va bene Hai vissuto L'esperienza traumatica E adesso me le immagino Tutti i fan di Maggie Oh poverina Allora È per questo Che adesso è così Tra il fatto che Nigan è libero E quello che ha vissuto Però questa cosa Tutta questa empatia Di confronto di Carol Io non l'ho vista Ne sono sentito nessuno Dire tra i fan Di tutti gli altri Oh povera Carol Però va compresa Perché ha per il suo figlio No No Su ne è niente A lei Lei sono la povera Stronza psicotica Che voleva solo vendetta No veramente Maggie non mi sta piacendo Non mi sta piacendo Come la stanno gestendo Io capisco tutto Capisco Il fatto di Nigan Ci può anche stare Per carità di Dio Ma Questi quattro Cumbenda di Milano Che arrivano E si permettono In giudicare Io ho capito Che quello che avete Ad Alexandria È raro Ma se stermini Chiunque non la pensa Come te Per preservare La comunità Non ti rimane più nessuno Non ti rimane più nessuno Cioè quella L'unica colpa di quel ragazzo È essere scappato E poi Gabriel È rimasto solo il guscio Di un codardo Quell'uomo Ha fatto il codardo Per otto stagioni Adesso ha tirato fuori I coglioni Ma basta Anzi 10 stagioni Perché i coglioni Ha cominciato a tirarli fuori Nella 10 per 08 Quindi stai zitto Gabriel Stai zitto Che con il sussuratore Anche tutti Cagavi in mano Quindi stai zitto Ecco Mi devo tenere Questa rege Per il video Che arriverà tra poco Delle Parti Delle Completamente inutili A parte che Gli hanno fatto fare La figura dell'eroe Ma va bene Almeno fa qualcosa Almeno fa qualcosa Quell'uomo sta guadagnando Un milione di episodi Senza fare un cazzo Date una melissa McBride Quel cazzo di milione E le partirei Come volo Interessantissime Quindi adesso Io mantengo Questa rege Per il video D'approfondimento Io vi invito A seguire Kelly Italia Trovate il link In descrizione E nella schermata Fine video Mercoledì Al 99,9% Io mi tengo sempre Un 1% Per gli imprevisti Saremo appunto In live Quindi se volete interagire Sia con me Che con Carol Per parlare di questi due Fottutissimi episodi Venite A parte più ponderata Più carina Più tranquilla Io sarò quella incazzata Già lei lo sa Lei lo sa Perfettamente Già perché comunque Questi episodi Noi li stiamo guardando Una settimana prima Perché sapete che Subbatti escono prima E quindi lei sa già Esattamente cosa Ne penso di tutto Sappiamo già tutto Quindi lei lo sa Perfettamente Ma sa cosa va incontro Ormai mettendomi Nelle live Instagram Il mio Instagram Mia wishlist Seguitemi Iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella Mettete like a questo video Ragazzi Vado a girare Il video d'approfondimento Vi mando un grande bacio E noi ci rivediamo Al prossimo video Al prossimo reaction Alla settimana prossima Con The Walking Dead Tutto il resto No non ce la faccio Non ce la faccio Io Parte male Quest'ultima stagione Non è partita Si poteva fare meglio Ragazzi Porca puttana Kang Ti vuoi svegliare L'ultima stagione Porca di quella puttana L'ultima stagione Grazie a tutti.